Una presa di coscienza che ha portato in piazza oltre 7.000 rumeni giunti da tutta Europa per chiedere al governo di dimettersi. Hanno partecipato alla manifestazione con cui si è denunciata la corruzione, salari bassi e il tentativo del governo a guida socialdemocratica di indebolire il potere giudiziario. Lei è giunta da Bilbao. Vogliamo essere considerati come un paese normale, non come esseri inferiori. Il governo deve concederci questa possibilità, non essere umiliati da tutti. Sono venuta da Bilbao per questa protesta di noi rumeni all'estero. Siamo stufi, dobbiamo essere uniti. Viva la Romania! Lui invece è giunto dall'Italia. Il viaggio è stato lungo, ma siamo venuti qui perché ne abbiamo abbastanza. Il governo è corrotto, deve andarsene. Ci deve essere un cambiamento che deve venire dai giovani, con nuova mentalità. Devono farsi avanti loro i giovani. Negli ultimi mesi i rumeni sono scesi in piazza chiedendo le dimissioni del governo diverse volte. Sapepti viene divino molto forte.